Tutte le crisi economiche più impattanti della storia, periodi e avvenimenti. Benvenuti a tutti. Oggi parleremo delle crisi economiche più impattanti della storia, dei periodi e degli avvenimenti che le hanno caratterizzate. Iniziamo con la Grande Depressione del 1929. Questo è stato un periodo di grave recessione economica globale che ha avuto origine negli Stati Uniti. Il crollo della borsa di Wall Street ha seguito un periodo di frenetica speculazione azionaria. Questa crisi è durata oltre un decennio, con milioni di persone che hanno perso il lavoro e la povertà dilagante. Passiamo poi alla crisi del petrolio del 1973. Questo shock economico globale è stato causato da un embargo dell'OPEC. Il prezzo del petrolio è salito alle stelle, causando inflazione e recessione in tutto il mondo. La crisi finanziaria asiatica del 1997 è stata un altro evento economico significativo. Questa crisi è iniziata in Thailandia con il collasso del Bacht thailandese, ma si è rapidamente diffusa a tutta l'Asia. Nel 2001, la bolla delle dot-com ha provocato un crollo del mercato azionario. Questa crisi è stata causata da una sovravalutazione delle aziende di tecnologia e Internet, che ha portato a un crollo dei prezzi delle azioni. La grande recessione del 2008 è stata un'altra crisi economica globale. Questa crisi è stata causata da una crisi immobiliare negli Stati Uniti, che ha portato al crollo di importanti istituzioni finanziarie. Infine, la crisi del debito sovrano europeo del 2010 è stata una crisi economica che ha colpito l'intera zona euro. Questa crisi è stata causata da alti livelli di debito sovrano e da preoccupazioni sulla solvibilità di alcuni paesi. Ecco un breve riassunto delle crisi economiche più impattanti della storia. Ricordate, la conoscenza del passato ci aiuta a prepararci per il futuro. Iscriviti al canale per non perderti i prossimi video.